Allora, Gallas e Parisi però mi stanno rimproverando, ma non te mica di tu quel che ti dici, ma allora ragazzi, allora questa mia descrizione adesso è un po' più mondana. Allora, per i matrimoni normali, qual è la mia teoria? Il matrimonio è fatto di cinque fasi, dice il Gallas, cinque fasi, se lo vedo qui davanti sto facendo la faccia strabiliata di cinque fasi, sì caro Gallas, cinque fasi. Allora, la prima fase, vuoi sesso, perché se non ci fa sesso figli non ne nascono, a meno che non ci siano programmi perché oggi si programma anche altre cose diverse, ma diciamo, allora la donna è molto disponibile, il maschio è tutto contento, eccetera, eccetera, eccetera. Arrivo del primo figlio, seconda fase, seconda fase. Cosa succede? Succede che ragazzi, durante la gravidanza, insomma, ho le nausee, il vomito, lo star poco bene, insomma, per quei nove mesi lì, se il maschietto sta lontano, tutto sommato, tutto sommato, non è che la femmina reclami molte cose. Poi nasce il bambino, quando nasce il bambino? Allora che le ragadi al seno, il bambino poi aveva la diarrea, il bambino non dorme, il bambino che ha la tosse, il bambino fa denti, il bambino ha le prime malattie, cari miei, allora qua diventa un po' più problematica la storia, il maschietto incomincia a usare le rezze, gli schiocchi, anche i fiori, ma insomma, e allora quei spermatozoi che il maschietto vorrebbe iniettare alla sua consorte, eh, insomma, o va da un'altra banda o se li ciuccia. Terza fase, naturalmente dopo il primo figlio, nella seconda fase, una che vuole avere il secondo figlio, allora diventa disponibile, allora il sesso non è più un opzionale, come dicomi nella fase, diremo, dell'allattamento, l'allattamento mi dispone, quello è l'allattamento, ragazzi, allora c'è nella seconda fase, il secondo figlio, allora per avere il secondo figlio, eh, ragazzi, con il senso, allora salta fuori la parte opzional, si leva di mezzo e c'è la seconda fase, della seconda fase, secondo figlio, ma, terza fase, meno pausa, allora il maschietto che ha le tute di solte e finalmente, vada, ostia, che pulpa ricco dei figli, adesso posso all'amore, momento, la secchietta vaginale, dove la mettete voi altri, eh, e le stornisie, eh, e l'insonnia, eh, e le vampate di sudore, ah, tutte situazioni che mettono il maschietto sempre in una situazione di malattia, questa qui, anche le vampi, la verghe, e allora anche in questo periodo, magari finiscono quei mal di testa che c'erano prima, prima che venisse le mestruazioni, durante le mestruazioni, insomma, con mal di testa, non stavo bene, eh, perché ragazzi, in momento, anche le mestruazioni, prima che le vengono, quando le ghe e dopo le ghe, ah, è una roba anche quella lì, eh, mica da poco, eh, allora, allora, che cosa succede? Succede che nella quarta fase, nella quarta fase, passata la menopausa, eccetera, i figli sono diventati grandi e quando i figli sono grandi, eh, si sposano o convivono, e allora vanno via di casa la moglie che in questi periodi dall'allattamento in poi, eh, l'educatrice, anche i maschi, per l'amor di Dio, adesso si lavano i piatti, stira, eccetera, va bene, eh, che cosa fanno? Eh, fanno, fanno, in un certo momento, aiutano la moglie a fare, però in questa quarta fase, la madre non avendo più da accomodare i figli, qualcuna è anche fortunata perché li portano i nipoti a casa, allora fanno i nonni, eccetera, però, 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 in questa fase le donne riversano la loro capacità di essere madri sul marito, ah, ah, quando scoprono che con la figlia, noi poi puoi dire che niente, perché l'è sposata, l'è forte a casa, eh, con quella che convive, non si parla neanche, perché qui che convive, se te che parli del matrimonio, ti sponde in occhio, di modo che il rapporto genitori-fili cambia completamente, e le donne che sono state abituate a essere quelle che in fondo consigliavano e anche comandavano, fregate, il marito che è là, tutto disponibile, ah, ma è tutto in un momento, te sei cambiare la camisa stamattina, no, cambiate la camisa, cambiate la camisa, e le scarpe, non ti uscire la mia con quelle scarpe lì, ah, ma guarda che te mangi massa, te fa male, e giù di questo passo, di sesso, mi risparmio, perché, eh, altro che sequenze vaginali, per cui in questa fase la donna diventa madre, poi c'è la quinta fase che per noi maschi è drammatica, almeno per me, e quando il Padre Eterno chiama, dice, vado avanti, ti preparo un posto, poi vengo a prenderti, quando il Padre Eterno lo venga a prendere, se prende il maschio, ah, ah, la situazione è avvigliente per noi maschi, perché per primi sei mesi, un dolore, un dolore terribile, me manca, me manca il Carlo, me manca il Carlo, me manca il Sandro, me manca il Fabio, mi facendo, sono vivo, ma dopo sei mesi, che cosa cambia? E le si accorge che senza il Mario, il Fabio, le sta bene, ma guarda che bellezza, non ho capito a stirare le camise, non ho capito a dirgli che cosa, e c'è un rifiorire, non ho mai visto, Dio me perdona, una vidua triste dopo sei mesi, ma il maschio, vedete, i maschi si trovano tutti spiazzati, un disastro, casa di riposo, badante, le donne difficilmente, ci sono anche quelle con la badante, ma più come compagna, mentre le badanti per i maschi, le proprio badanti, perché se vi guardate in giro, mi guardate. Allora, fatta questa parentesi, sollecitazione di quel signore che ho davanti con maglia rossa e tante dei cuffie, che è quel che mi fa il sedde partire, ho il sedi quando devo finire, ed è quell'individuo che si chiama, e io lo chiamo lo sviolinatore, perché pur di farmi parlare e di far funzionare, di occupare qualche spazio libero, di telegarda, il continuo a dire, bellissime trasmissioni, mi ferma la gente, mi domanda come te parli, ma con l'idea che venivano a togliere i tamanini. Allora, fatta e data questa soddisfazione a quei due individui, io di sesso, giuro, non ne parlerei più.